E ho detto se ciò succede in tre giorni questi sono i premi che voglio e li ho elencati. La persona accettata questa sfida ovviamente non credeva fosse possibile che io ci riuscissi a fare. E era un maestro di questo di quell'altro maestro di magia e sapeva anche come ricattare. E nessuno di questi ha funzionato. E ho detto guarda farò un esorcismo nell'Imbasciata del Brasile a Lagos il giorno seguente vai lì e non avrai dei problemi. E io non soltanto ho fatto l'esorcismo anche inviato immagini di Gesù ai sogni dell'Imbasciatore che diceva rispetterai la religione del tuo prossimo. E per rispettare il modo di vedere le cose dell'Imbasciatore ho mandato un Gesù bianco anche se è raro che un Gesù sia bianco però in quel caso ha servito a questo scopo. Poi inviato delle immagini dentro la sua stessa mappa della sua realtà per far sì che lui facesse quello che comunque fa di solito nella sua vita. Poi il primo giorno che l'Imbasciata è stata riaperta dopo Capodanno lui è andato lì e ecco il visa pronto. E quest'altro uomo insegnava gli odù ma non riusciva a farlo funzionare. Perché loro dovrebbero dargli il visa, sì lo so. Ok se questo non funziona dovremmo fare delle grandi offerte agli Dei e questo dovrebbe funzionare. Sì ma non ha funzionato. E quando quello non funziona lui paga una tangente. Ma quello non ha funzionato. No, you have to feel the situation and do the thing that will work even if it's something you've never done before in your life. Sì per cui devi sentire una situazione e fare ciò che funziona anche se è qualcosa che non ha mai fatto l'imitatura. Ma che cos'è un esorcismo? Ma che cos'è un esorcismo? Ok, so, a very good question for a minute after lunch. Ok, 2.30, we shall return after lunch. We have the camera so the Cro-Demians can remember things later. Ah, sì, ho la telecamera così di Cro-Demians. Sì, non c'è un termine politicamente corretto per descrivere gli abitanti della Slovenia. Slovenia and Cro-Demians are together. Ah, i Cro-Demians insieme. E quelli Cro-Demians? Yeah, we can't call them Yugoslavians or former Yugoslavians or Cro-Demians. Cro-Demian, Cro-Demian è la parola che ho trovato. Sì, è corretto dire che gli Odisha corrispondono a delle nostre aree di coscienza che se stimolate reagiscono alla nostra volontà. Ma l'idea della triangolazione che vi ho dato prima è come se sono così, fino a che sono più oltre. Sì, questo è un modo di vedere, delle prospettive, ma vanno anche oltre a questo. ma sono degli archetipi dinamici. E la maggior parte dell'addiction è di mettere cose in piccoli piccoli Niente resta fermo, neanche il pavimento per terra resta fermo. Tutto è in movimento. Ma perché il pavimento sembra così fermo? Perché è in orbita in otto direzioni diverse. L'unica soluzione è quella di dare questa impressione di essere fermo. Se provi a indicare la tua sedia che era lì qualche ora fa, adesso si trova a migliaia di chilometri. Le persone prendono questi piccoli punti di riferimento come un pretesto per avere questa impressione che le cose siano ferme. Sì, queste aree vengono attivate, ma si trovano anche nella natura. È la stessa cosa come scegliersi un bel orso grande. È stato soltanto il pensiero di un orso. Adesso cominciamo a respirare con tutti gli orsi della terra. E man mano che respiriamo il corpo diventa più forte. Sì, è soltanto un pensiero, gli orsi troveranno questo molto divertente. E questa è la comprensione di creare un cambiamento per rinforzare il corpo. Per renderlo più forte. Come posso fare questa cosa la prossima settimana? Beh, l'ego non lo può fare. L'ego non lo può fare. L'ego non lo può fare. L'ho non lo può fare. per cui per la guarigione di uno schema karmico familiare una persona deve essere in contatto con queste forze animali con le forze della natura